E' stata inoltratta tempo di bilanci Fabrizio Terrile come è stato il 2002-2023 che stagione è stata sia da un punto di vista dei risultati ma soprattutto di lavoro e di impegno in palestra è stata una stagione che in cui abbiamo proseguito il nostro programma di avviamento allo sport nelle scuole abbiamo iniziato a lavorare col chip paralimpico sulla provincia di Genova amplieremo questo programma nell'istituto in via Monte Zovetto a Genova in Albaro i ragazzini nella nostra sede principale di Bocca d'Asse stanno crescendo, stanno migliorando abbiamo ottenuto dei risultati buoni a Bagheria nelle cinture rosse sia senior che master insomma ci stiamo dando da fare con le nuove leve Un lavoro che è sia in palestra da un punto di vista tecnico sia in termini logistici e organizzativi perché prosegue la vostra espansione? Ci sono nuove palestre in arrivo? Sì è già ufficiale la sede a Borgoratti in via Tanini dove c'è la palestra di box saremo ospiti lì dal primo settembre e stiamo lavorando per aprire un'altra scuola sempre in Albaro, stiamo aspettando l'ok da parte dell'istituto Contaminazioni, collaborazioni sono il sale della crescita e fa parte di questa vostra idea di sport anche quella di incontrarsi con giovani talenti Recentemente è venuta a trovarvi una ragazza svedese molto brava tra le prime a livello europeo nel ranking giovanile Sì è a Malta l'anno scorso quando ero andato a vedere gli europei cadetti avevo ospitato questa ragazzina che si chiama Arianna, 14 anni è la numero 4 nel ranking europeo attualmente nella meno 44 kg femminili insomma l'abbiamo ospitata a nostre spese grazie anche ai nostri sponsor di cui dobbiamo sempre ringraziarli insomma è stata una bella esperienza, si è trovata molto bene l'anno prossimo andremo noi a Gotteborg ospiti da loro e insomma speriamo che queste collaborazioni possano crescere sempre di più Facciamo un po' anche una fotografia di quello che è oggi il movimento in Casa Lanterna Taekwondo Genova quanti sono i ragazzi impegnati e insomma quali sono gli obiettivi del prossimo triennio? Allora la cosa più importante per me è che ho un sacco di cinture nuove, maggiorenni che faranno il corso come tecnici in federazione nel prossimo ottuno e inverno e questo ci permetterà sicuramente di crescere sia a livello tecnico che di espansione dei corsi poi i numeri sono sempre buoni, un anno 80, un anno 100 comunque l'importante è avere tecnici nuovi che ci permettono di crescere nel panorama genovese Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!